Allora, adesso abbiamo un'artista molto particolare, sia per il suo abbigliamento, ma soprattutto perché ci canterà un suo inedito. Ecco a voi, Lucy Loddo. Ciao Lucy, vedete com'è carina? Allora, lei viene da Cagliari, classe 1989, giusto? Parlaci un po' di te, Lucy. Allora, niente, io ho 24 anni, studio in scienza dei materiali a Cagliari, sono di San Sperate in realtà, mi sono di Cagliari. Qui c'è scritto nasce a Cagliari, forse tua mamma ha partorito a Cagliari. Nasce a Cagliari, sì, vivo San Sperate. Niente, la passione per la musica ci è data tanti anni, niente. Cosa ci presenterai oggi? Oggi vi presenterò un brano inedito, il titolo è Tears of Fire. Ok, ecco a voi Lucy, un applauso! Cagliari, un applauso! Cagliari, un applauso! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.